Ciao a tutti ragazzi, qui Simone e qui Stefano di Photoshop Facile. In questo video vogliamo illustrarti come abbiamo fatto a realizzare questo incredibile effetto doppia luce all'interno di Photoshop. Quello di oggi è forse uno dei miei effetti preferiti. Nello specifico andremo a mappare le luci con due colori specifici. Il risultato finale è davvero gradevole da vedere, ma la cosa più bella è che possiamo realizzare questo effetto in pochissimi step. Detto questo, se vuoi imparare a realizzare altri effetti mozzafiato, all'interno del corso Photoshop Facile abbiamo dedicato un intero modulo proprio sugli effetti. Se non sai che cos'è il corso Photoshop Facile, devi semplicemente sapere che è un corso in cui io e Simone abbiamo compresso tutta la nostra esperienza su Photoshop. Ti portiamo da un punto zero fino ad arrivare a un punto cento, quindi un punto in cui sarai in grado di muoverti e realizzare i tuoi lavori in completa autonomia. Il nostro obiettivo principale con questo corso è quello di farti acquisire un vero e proprio metodo di lavoro. Se ti abbiamo incuriosito vogliamo darti la possibilità di guardare gratis le prime tre lezioni del nostro corso. Trovi il link per visualizzare queste lezioni qui in basso in descrizione. Ok, io direi che siamo pronti per vedere come realizzare questo effetto, sono super curioso, quindi mano sul mouse e apriamo Photoshop. E siamo all'interno di Photoshop, qui al centro ho già importato l'immagine su cui andremo a lavorare, e la prima cosa da fare per realizzare questo incredibile effetto a doppia illuminazione consiste nell'andare a correggere un pochino quella che è la nostra immagine di partenza. Nel mio caso andrò ad applicare dei valori tonali, quindi mi reco qui in basso su riempimento e faccio clic su valori tonali. Mi sposto qui al centro, quindi su questa spunta, e vado ad alterare leggermente i mezzi toni. Quindi da 1 passo a 0,91. Prima. Dopo. Quindi sono andato a scurire leggermente tutta l'immagine. Bene, a questo punto siamo pronti per sporcarci le mani. Infatti per realizzare questa incredibile tecnica andremo ad utilizzare delle sfumature. Ci richiamo sempre qui in basso sul riempimento, sfumatura. Stile, lineare, angolo, vado ad impostare, 0 gradi, scala 100%, alligna con livello. Ora ci spostiamo qui in alto sulla spunta sfumatura e facciamo un clic all'interno di questo riquadro. E ragazzi, cosa molto importante, all'interno di questo pannello dobbiamo selezionare la sfumatura che va dal colore, quindi nel mio caso nero, fino ad arrivare alla trasparenza. Per selezionarla è semplicissimo, infatti la trovate all'interno dei predefiniti di Photoshop. Vi basterà sfogliare un pochino all'interno di questa schermata e fare clic sulla sfumatura che va dal nero fino ad arrivare alla trasparenza. Bene, a questo punto è arrivato il momento di andare a trasformare un pochino questa sfumatura. Quindi per prima cosa faccio clic sull'ultimo cursore e premo il tasto cancio sulla tastiera. Bene, l'abbiamo eliminato. Adesso ci spostiamo qui in basso sul colore e molto semplicemente qui dobbiamo andare a selezionare il colore che più ci piace. Quindi questo colore verrà utilizzato per creare appunto questa illuminazione. Nel mio caso mi sposto qui sul magenta e già che ci sono vado ad abbassare la luminosità del colore. Quindi mi bastará portare il colore semplicemente più in basso. Diamo clic su ok e adesso spostiamo lo sguardo sulla nostra immagine. Quindi sposto tutto più a destra. Come puoi notare abbiamo un piccolo problema. Infatti la nostra sfumatura predomina troppo all'interno della nostra immagine. Questo non va bene, infatti più avanti quando andiamo ad aggiungere il secondo colore praticamente i due colori si andranno a sovrapporre. Quindi per risolvere questa situazione è semplicissimo. Ascoltami molto attentamente. Selezioniamo il punto qui in alto a sinistra sulla nostra sfumatura e lo trascino verso destra. Faccio la stessa cosa con l'ultimo punto. Quindi lo seleziono e lo trascino verso sinistra. E come puoi notare adesso la nostra sfumatura non va a ricoprire tutta la nostra immagine. Quindi abbiamo la parte destra del volto del nostro soggetto praticamente intaccata. Nel mio caso vado a migliorare ancora di più la mia sfumatura. Quindi sposto questo cursore più verso destra. Seleziono l'ultimo punto e vado a spostare anche questo un po' più verso destra. Ok. Quindi per il primo punto abbiamo impostato posizione 41% per il secondo posizione 55%. Ragazzi ovviamente questi valori cambiano a seconda dell'immagine che stai utilizzando. A questo punto diamo clic qui in alto su ok. Diamo clic su ok. E signore e signori ecco qui la nostra sfumatura. Ovviamente così non va bene. Infatti dobbiamo andare a cambiare il metodo di fusione. Quindi da normale passiamo a colore. Prima. Dopo. Incredibile. Ora facciamo la stessa cosa anche con la parte destra della nostra immagine. Quindi vado a duplicare la mia sfumatura. Seleziono la sfumatura 1. E premo Command più J se utilizzi Mac. O Control più J se utilizzi Windows. Doppio clic sulla sfumatura che abbiamo appena duplicato. E adesso dobbiamo semplicemente cambiare l'angolo e il colore della sfumatura. Quindi in questo momento l'angolo è impostato su 0 gradi. E questo non va bene. Quindi portiamolo a meno 180 gradi. Praticamente siamo andati a ribaltare la nostra sfumatura. Facciamo clic all'interno del riquadro qui in alto. E all'interno della nostra barra che si trova qui in basso. Facciamo un altro clic qui su colore. E signori adesso dobbiamo semplicemente impostare il secondo colore. Quindi nel mio caso andrò ad impostare. Vediamo un attimo un blu. Ecco se porto il colore qui in alto a destra. Guarda che cosa succede. I punti luce presenti all'interno della mia immagine verranno bruciati. Risultano infatti troppo accesi. Quindi nel mio caso vado ad abbassare la luminosità. Bene così mi piace. E diamo clic su ok. 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 Signore e signori. Prima. Dopo. Abbiamo ottenuto questo incredibile risultato solo attraverso due sfumature. A questo punto non dobbiamo fare nient'altro che andare a migliorare tutta la nostra immagine. Nel mio caso andrò ad aggiungere delle curve. Quindi mi reco qui in basso sul riempimento. Facciamo clic su curve. E il mio intento è quello di creare una sottosorta di effetto sbiadito. Quindi per farlo è semplicissimo. Mi basterà spostare il cursore qui in basso. Quindi sul primo punto della mia curva. Spostiamo il cursore verso destra. Ok. Quindi stiamo lavorando sui bassi toni della nostra immagine. E sempre tenendo premuto il tasto sinistro del mouse. Vado ad alzare la mia curva. Ecco guarda che cosa succede. Prima. Dopo. Abbiamo creato il nostro effetto sbiadito. Chiudo il pannello curve. E adesso come penultimo step vado a migliorare i colori della mia immagine. Quindi faccio clic qui sul riempimento. Correzione colore selettiva. Qui su colori in questo momento è impostato rosso. Ovviamente non vogliamo andare a lavorare con i rossi della nostra immagine. Bensì direi di partire con il ciano. Qui vado ad alterare i colori. Quindi vado ad aumentare la percentuale di ciano. Del ciano. Mi sposto qui su giallo e adesso portando il cursore verso sinistra andremo ad aumentare la percentuale di blu all'interno del ciano. Quindi porto questa spunta a meno 22%. Mi sposto qui in basso sull'ultima spunta e questa la porto a meno 33%. Porterò la spunta a un meno 12%. Mentre per quanto riguarda i neri vado ad aumentarli. Quindi porterò la spunta a più 3%. Ecco già che ci sono vado a migliorare questa spunta. Anche i neri. E signori ecco qui il nostro risultato finale. Prima. Dopo. Chiudiamo. Portiamo tutti questi livelli all'interno di un unico livello. Quindi tengo premuto command più option più maiuscolo più E. Si utilizzi mac. O control più alt più maiuscolo più E. Si utilizzi windows. Convertiamo questo livello in un oggetto avanzato. Quindi facciamo tasto destro. Converti in un oggetto avanzato. Ragazzi ovviamente se volete approfondire tutte queste regolazioni. Che siamo andati ad applicare sulla nostra immagine. Il mio consiglio è quello di entrare all'interno del corso Photoshop Facile. Qui in basso in descrizione è presente un link. Che vi permette di guardare in modo totalmente gratuito. Le prime tre lezioni del nostro corso. Bene ritorniamo a noi. Spostiamo il cursore qui in alto su filtro. E facciamo clic su filtro camera raw. All'interno di questo pannello. Vado ad aumentare la texture generale di tutta l'immagine. Aumento leggermente il contrasto. E vado ad abbassare leggermente i bianchi. Porto le ombre a un più tre. E per quanto riguarda la vividezza. La vado ad abbassare leggermente. Diamo su ok. E signore e signori. Ecco qui il nostro risultato finale. Prima. Dopo. Che dire. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se si vi prego di farmelo sapere lasciando un commento qui sotto. Per oggi è tutto. Qui Simone. Qui Stefano. E noi ci vediamo alla prossima con un nuovo tutorial. Qui su Photoshop Facile. Ciao ragazzi. E noi ci vediamo alla prossima. Grazie.